Recentemente ho rivisto diversi film dei fratelli Coen e ho notato come ogni tanto certi movimenti camera non siano proprio pulitissimi. E mi sono venute in mente le miglia occasioni in cui sui set squattrinati ho visto ripetere una take anche 5, 6, 7 volte perché il movimento camera non era perfetto. E allora mi sono chiesto perché per loro questo è accettabile e per i set da 2 lire no. La risposta secondo me è che loro, sapendo benissimo ciò che stanno facendo, sanno anche che quello non è importante, non è quello a fare la differenza, non è quello il cinema. Nessuno dopo aver visto L'uomo che non c'era ha pensato è un buon film però quel crane. Nel momento in cui la direzione di quel livello, la sceneggiatura di quel livello, la recitazione di quel livello, la messa in scena complessivamente di quel livello le piccole sporcature diventano irrilevanti. Il discorso è molto diverso nel momento in cui ci si trovi a girare la 6 millesima scena al ristorante che inizia con un cameriere che porta il vassoio a un tavolo dopo di che si passa ai soliti primi piani in campo contro campo recitati in cagnesco da due attori che interpretano dei personaggi che si chiamano Jonathan e Cindy ma che parlano con un accento abruzzese tra l'altro di cose le quali non frega niente a nessuno. È chiaro che lì uno si concentra sul movimento del Dolly, sulla polizia del carrello, semplicemente perché non c'è altro da vedere. Riportando questo ragionamento più nello specifico al lavoro del direttore della fotografia, io credo che sia evidente che nel momento in cui uno è sicuro del lavoro che sta facendo, sa che le atmosfere che sta creando con le luci sono quelle giuste per la storia, che ogni volta ha scelto il giusto movimento camera per raccontare la scena, per trasformare in immagine la visione del regista, le piccole imperfezioni diventano automaticamente rilevanti. Qual è il punto di questo discorso, ammesso che un punto ci sia? Se mai vi trovate a incaponirvi su un taglio di luce che deve essere un centimetro più alto, un centimetro più basso, probabilmente il problema non è il taglio di luce. E quindi è importante capire qual è la mancanza. E allo stesso modo, se una scena richiede assolutamente un movimento crane, ma la produzione non ha il budget per riuscire a noleggiare un crane, voi non disponete di un crane, procuratevi un crane. Prendete due profilate in ferramenta, attaccateci due pulegge, una corda, una piastra, montate tutto su treppiedi e fate il movimento crane. Non verrà perfetto, ma sarà sempre meglio un movimento crane dove serve un movimento crane, piuttosto che una panoramica dove serve un movimento crane. Quindi senza paura.